Dopo l'annuncio dell'obbligo del Green Pass in Trentino si è registrato un netto aumento delle richieste del vaccino nella fascia tra i 12 e i 18 anni. Ma sono tante le famiglie che si rivolgono ai pediatri per capire se i sieri siano sicuri anche per i più piccoli. Il servizio di Maddalena Boggiano. In Trentino il 13% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni ha ricevuto la seconda dose di vaccino, percentuale che sale al 36% nella fascia dai 16 ai 19 anni. Ma l'effetto Green Pass ha più che triplicato le prenotazioni per la prima dose, proprio tra i 12 e i 17 anni, mentre in generale le richieste sono raddoppiate fra il 21 e il 23 luglio. Al contempo sono tanti i genitori che si rivolgono ai pediatri per capire se il siero anti-covid sia sicuro per i loro figli. Abbiamo girato la domanda a Lorena Filippi, rappresentante dei pediatri nel direttivo dell'Ordine dei Medici del Trentino. A un genitore dubbioso dico che dubbi non ce ne debbono essere. È importante vaccinare i nostri ragazzi. Staremo aspettando poi penso entro la fine dell'anno anche l'autorizzazione sotto i 12 anni perché è importante vaccinare i ragazzi proprio perché sono la fascia debole della popolazione. Fondamentale arrivare all'inizio della scuola con buone percentuali di copertura vaccinale. E se la prossima mutazione fosse tale da portare il virus ad essere maggiormente aggressivo per i bambini, per i soggetti più piccoli che al momento non possono essere vaccinati e magari proprio provocasse una malattia grave nei bambini, cosa potremmo fare? Saremmo impreparati. In vista di settembre, soprattutto per i più piccoli, fino a 12 anni che non si possono vaccinare, la provincia sta pensando di estendere l'utilizzo dei test salivari, precisi come i molecolari ma molto più facili da somministrare.